Una serata a Positano, un teatro festival, un nuovo appuntamento con Napoli. Gino, si parla in maniera positiva, arte, musica, grandi maestri e tu che sei stato eccezionale con una voce stupenda e splendida. Di Fiorenza Calogero, è stata una bellissima serata, Positano poi ispira particolarmente, le emozioni che riesce a dare a questo posto sono uniche. E' uno spettacolo a cui sono molto legato, io e Napoli che porto in giro quest'inverno con Fiorenza Calogero e al piano il maestro Antonello Cascone. Ed è stata una serata con grandi emozioni, grande risposta di pubblico. Abbiamo inaugurato questa rassegna del teatro festival di Positano diretta da Gerardo D'Andrea, dove non c'ero mai stato, pur essendo un abituato di Positano. Quindi mancava nella mia trentennale oltre carriera questo tassello molto prezioso. Ci ringrazio molto. Fiorenza, io conosco già una voce di Napoli molto intensa. Grazie, grazie mille, grazie. Io e Napoli è uno spettacolo che racchiude semplicità, eleganza, grande spessore di cuore. E Gino è veramente uno straordinario artista che puntualmente quando ha bisogno di una voce femminile mi ricorda sempre, si ricorda sempre di me. Questo sarà l'undicesimo spettacolo a cui prendo parte. È vero, non è il primo e non sarà l'ultimo. Io ho visto una grande napoletanità, l'anima proprio di Napoli. Per chiudere, un pensiero sul calcio rapido dobbiamo farlo? Sicuramente. Sono molto ottimista, un Napoli che mi ispira molta fiducia. Penso che ci rivertiremo molto e ricorderai il Napoli di Vinicio. Il modulo di Sari funziona, è una squadra a cui manca ancora qualche aggiunta forte in difesa, ma è una squadra che potrebbe diventare la sorpresa della stagione. Va bene, ti ringraziamo molto. Ciao a tutti. Hai messo l'iguaino tra i grandi del teatro, tra i grandi di Napoli. Grazie a tutti. Ciao.